Da una parte stava finendo la semifinale poi vinta da Giuliano Di Nicola, siamo subito passati con le telecamere sul campo 4 dove si stanno affrontando Girolimini e Sabatini. Abbiamo visto molte tornate in cui questi giocatori hanno avuto la possibilità di conquistare tanti punti, nello specifico Sabatini. Ha avuto anche un'occasione in cui probabilmente ha compiuto una discutibile scelta su un vantaggio di gioco, ha rimesso a posto e poi ha bocciato una corta per fare tre punti quando forse poteva lasciar stare e magari tentare una bocciata al verso che magari sarebbe stata meno rischiosa di quella che ha tentato in seguito. Ad ogni modo parlare dopo è sempre facile, non ha raccolto punti in quella tornata che pure era molto favorevole, adesso si mette molto male per Silvano Girolimini che sta perdendo per 11 a 9 e ha già consumato due bocce. Si accinge a giocare la terza, c'è un punto corto sui 50-55 cm da parte di Sabatini, quella parte del campo non è assolutamente semplice all'accosto perché le bocce possono prendere qualunque direzione. Ha fatto bene a bocciare Silvano Girolimini però è andato incontro a due lisci. Terzo liscio, sta cercando di buttare fuori il pallino, gli è rimasta una sola possibilità e probabilmente cercherà di forzare un po' il sopramano per quanto già normalmente il suo sopramano sia abbastanza veloce e sufficiente a buttare fuori i pallini. Ci prova con l'ultima boccia, sembra molto tranquillo invece Sabatini, del resto in una situazione invidiabile. 11 a 9 per lui, possibilità concreta di vincere quest'incontro, tira fortissimo Silvano Girolimini, non colpisce quattro lisci partita per Sabatini. Finisce questa semifinale, la finale sarà Giuliano Di Nicola contro Marco Sabatini e l'augurio che sia una bella partita e che magari Sabatini ci regali alcune delle sue bocciate per le quali ormai è diventato famoso sul web.